bene ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti al nuovo video soprattutto benvenuti al nuovo video della serie partiamo da zero questo in realtà sarà un po più corto dei precedenti perché iniziamo con gli upgrade che mi avete chiesto voglio iniziare oggi con quello che fa riferimento all'ultimo video della serie partiamo da zero peschiamo dalla barca quindi abbiamo fatto quel video dove abbiamo cercato di capire tutte le tecniche di pesca che si possono fare dalla barca qualche consiglio su quale fare soprattutto all'inizio soprattutto cercando di spendere il giusto vi ricordo che questa serie dedicata a chi vuole approcciare a una nuova tecnica oppure a chi vuole approcciare a un nuovo luogo che magari non ha mai frequentato come ad esempio quello della barca benissimo sotto ognuno di questi video pesca dalla scogliera pesca dalla spiaggia mi avete chiesto un sacco di cose che io ho segnato diligentemente e che quindi vi proporrò in piccoli upgrade oggi voglio fare l'upgrade dell'ultimo video quindi proprio su quello della pesca dalla barca perché non abbiamo parlato moltissimo ma vi voglio parlare oggi partiamo quindi da zero pesca dal kayak o similari voglio dire anche il belly boat che è questo oggetto che spesso si utilizza anche nella pesca partiamo dal discorso del kayak perché è un argomento che molti molte persone è un oggetto che molte persone utilizzano che chiaramente ha una connessione a una correlazione diretta con quello che è la pesca dalla barca ma con delle non poche limitazioni quindi questo video sarà un pochettino più breve perché prendete per giusto quello che vi ho detto in tutto il video dalla barca cercate però di ridimensionarlo cercando di immaginarvi invece di essere su una barca comodamente seduti o in piedi stesso facendo una tecnica di pesca e di farla appunto seduti e vincolati da quello che è un kayak vincolato dalla misura vincolato dalla motricità perché può essere a pagaia pedali o anche con motori elettrici ma parliamo dei classici e quindi sono vincolate da tante cose tutte le tecniche che andremo a fare prima di tutto c'è da dire c'è da dire che io ho avuto qualche anno tre anni esattamente la possibilità fra virgolette la voglia e anche la fortuna di pescare dal kayak mi sono molto divertito in questi anni perché poi l'ho abbandonato ve lo posso spiegare immediatamente noi qua siamo molto fortunati a essere vicini al mare la barca è sempre un qualche cosa che abbiamo vissuto da sempre fin da piccini e di conseguenza il kayak era un qualcosa in più che mi piaceva tenere in riviera ma poi il tempo è sempre il problema di tutti quanti poco tempo poco tempo di praticare e quindi alla fine ho abbandonato ma in questi tre anni mi sono fatto una minima esperienza tanto da capire quali sono le limitazioni che può dare un kayak e di conseguenza anche un tender molti adesso vanno sul tender per ridurre giustamente i costi o addirittura il belly boat che prende forma in acqua dolce ma che si può utilizzare anche in mare prima di tutto vi devo dire attenzione ragazzi attenzione perché sono natanti se li vogliamo chiamare così che abbastanza è abbastanza pericolosi oserei dire questo diventano pericolosi nel momento in cui uno li usa malamente nel momento in cui uno crede di poter fare determinate cose e invece non può farlo proprio limitatamente a quello che è l'oggetto quindi attenzione il kayak partiamo dal kayak poi voi vi farete poi i vostri da fronti con eventualmente un piccolo tender o addirittura il belly boat è un oggetto molto piccolo è un oggetto in cui siamo vincolati da una seduta è un oggetto dove solitamente non abbiamo uno spazio granché di manovra è un oggetto che ha bisogno di essere ben organizzato per portarsi a casa una bella pescata è una giornata divertente come quando apriamo una scatola dei nostri artificiali e tutti gli artificiali sono messi in modo ordinato metterli e levarli è molto semplice se abbiamo una scatola invece dove dentro gli artificiali sono buttati alla rinfusa ci mettiamo il triplo del tempo e spesso volentieri facciamo fatica il kayak è come se fosse una scatola come se fosse la nostra scatola di artificiali che deve essere assolutamente super organizzata sul kayak non si può portare roba che non si usa e che non serve a differenza dalla barca se dalla barca possiamo decidere di portare una scatola in più se possiamo decidere di portare una canna in più se possiamo decidere di portare un contenitore per il ghiaccio in più dal kayak non è così semplice quindi dobbiamo innanzitutto partire con l'idea giusta e precisa del tipo di pesca che andiamo a fare quindi possiamo scegliere se uscire col kayak e fare una tecnica verticale se uscire col kayak e pescare a spinning se pescare a volentino se fare insomma la nostra tecnica limitatamente a quella che è anche la distanza da terra perché non ci dimentichiamo che tutti i natanti non diciamo che non hanno il motore possono allontanarsi da costa per poche centinaia di metri quindi tutte quelle tecniche che si fanno in quello spazio possono essere fatte con chiaramente il kayak o cose del genere torniamo al discorso dell'organizzazione tutto deve essere organizzato bene perché non mi posso spostare ho poco spazio quindi tutto ci sta in un kayak da pesca stiamo parlando non ho detto per chi di voi conosce il kayak come la classica canoa lo vedo che per chi di voi non lo sa ci sono i kayak da pesca allestiti con portacanne attacchi per il coscandaglio predisposizioni per la vasca del vivo predisposizioni per la vasca del pescato predisposizioni per oggetti che possono essere porta borse cose del genere insomma sono una meraviglia devo dire la verità sono una meraviglia ma bisogna che siano organizzati bene quindi devo uscire già con l'idea chiara del tipo di pesca che devo fare devo mettermi in condizioni di rispettare le regole quindi di non uscire oltre quelli che sono i limiti appunto di legge devo controllare che il meteo marino sia assolutamente idoneo per quello che è la forma e per quello che è la galleggiabilità di un kayak è questo che vi voglio dire e vi continuerò a dire sempre perché la cosa principale è la sicurezza una cosa che io consiglio a tutti è di munirsi anche se siete degli ottimi nuotatori di munirsi sempre di un bel giubbino salvagente e mi raccomando attenzione alle scarpe che non siano scarpe troppo pesanti che non è weather che entra l'acqua andiamo giù come un piombo insomma cose basilari una volta che abbiamo organizzato tutto bene beh dal kayak parlando di cose belle possiamo fare un sacco di cose anche cose che alle volte dalla barca non possiamo fare perché possiamo con la barca arrivare dal mare aperto a sotto costa ma non così sotto costa come col kayak che oltretutto non sarebbe neanche possibile di legge fare una cosa del genere col kayak sì quindi si può trasformare una traina leggera anche una traina sotto costa per i classici predatori spigola serra barracuda leccia cosa che io facevo moltissimo si può pescare tranquillamente col kayak al kayak con a traina con il vivo al traina con il pesce azzurro si può tranquillamente fare un bolentino leggero perché non potendo andare su tante profondità difficilmente riusciremo riusciremo ad arrivare su profondità importanti e soprattutto andando nel sotto costa scoprire un sacco di posti che possono effettivamente essere molto interessanti per quanto riguarda appunto il mondo della pesca un ecoscandaglio piccolo funzionale comodo ben visibile è importante un trasduttore non serve averlo esageratamente potente performante sul discorso profondità proprio perché comunque la limitazione comunque non ci permetterebbe di andare là quindi un trasduttore da 2 kilowatt che tira mille metri non ci interessa assolutamente quindi anche lì una cosa congrua oggi le aziende che io ad esempio tratto garmin e eminbird propongono dei prodotti 5 pollici 7 pollici 8 9 pollici assolutamente abbordabile sono già degli ottimi strumenti importantissimo è avere il kayak strutturato con i portacanne che ci servono possono essere portacanne da traina possono essere portacanne da bolentino possono essere semplicemente dei portacanne che ci permettono di poggiare la canna a riposo la vasca del pescato è fondamentale è fondamentale anche eventualmente una vasca che ci permette di mettere all'interno una piccola contenitore termico solitamente si usano morbidi per poterci tenere bene il pescato e le esche eventualmente anche d'estate una delle cose però fondamentali che ho voluto lasciare alla fine di questo video è la motricità di questi kayak dovete pensare che quando io avevo il kayak vi sto parlando di qualche anno fa erano appena arrivati sul mercato i kayak a pedali il mio era a pagaia una limitazione enorme perché gestire le canne in pesca soprattutto in traina e poi doversi muovere e tenere una certa velocità a pagaia non è facile la fanno da padroni oggi quelli che hanno la motricità a pedali quindi noi con i nostri piedi e un movimento tranquillo riusciamo a spostare il nostro kayak avendo chiaramente le mani libere e ci permettono di fare quasi quello che possiamo fare al minimo con una barca tutte le pesche chiaramente a traina che vanno fatte a una velocità costante in poi le dobbiamo abbandonare anche perché se siamo dei canoisti per eccellenza non riusciremo a tenere certe velocità per tanto tempo ma diciamo che tutte le traina sotto coste come vi dicevo prima con la velocità possono fare al caso nostro quindi la motricità è fondamentale il kayak può essere anche mosso da un motore in questo caso elettrico attenzione un piccolo noi vediamo i motori elettrici come sapete in mincota ce ne sono ci sono alcuni kayak che hanno già delle prese di disposizione per quello che riguarda il motore attenzione perché si sta parlando di una batteria che solitamente ha litio per essere di piccole dimensioni attenzione perché la batteria litio non va tanto d'accordo con l'acqua quindi questo un altro discorso che vi faccio cerchiamo di fare le cose artigianali sì ma di farle bene o di farle fare bene da chi sa e da chi riesce a valutare tutti quelli che sono appunto gli impedimenti in ultimo non per importanza vi devo dire che ultimamente con tutta questa promozione della pesca giustamente che mi trovo assolutamente d'accordo molte persone si affacciano al mondo del mare e dell'acqua dolce da un attante vogliono un attante avere un attante oggi costa molto e se non è giustificato è una spesa effettivamente che da affrontare è difficile intendo dire che se uno abita vicino al mare lo fa come possiamo essere noi siamo nel settore lo facciamo quasi di lavoro passatemi il termine e riusciamo a rubare in quelle due o tre volte alla settimana anche solo quelle due o tre ore di tempo è giustificata una spesa di tenuta in acqua o in terra di un'imbarcazione è giustificato il fatto di fare ogni anno la carena è giustificato ogni anno il fatto di fare il tagliando al motore è giustificata anche la spesa della barca che ci vogliamo andare a comprare per molti di voi non è così purtroppo perché magari non siete ma nulla nulla di niente paura tutto si sistema quindi il kayak può essere quella cosa comoda da mettere sul tetto da tirare giù è un lavoro da fare ma si può fare per la nostra bellissima passione molti molti ricadono sui tender ci sono dei tender di ottima qualità che hanno un buon movimento che sono hanno la motricità appunto con un motore anche a scoppio tranquillamente ormai i quattro tempi la fanno da padrone anche in questo caso attenzione perché un tender pur essendo un gommone in piccolo non sempre ha le caratteristiche che possono essere giuste per affrontare una determinata condizione soprattutto in mare ma anche in lago non prendiamo sotto gamba grandi laghi che di fatto hanno un comportamento rispetto al meteo molto simile a quello del mare quindi attenzione anche con i tender non è che compriamo un tender da tre metri e mezzo ci possiamo permettere di andare a dieci miglia ve lo sconsiglio assolutamente chiaramente la sicurezza prima di tutto in ultimo che è molto bello e molto divertente perché è un po' un contatto con la natura può essere all'interno dell'acqua è il belly boat il belly boat è un altro bello oggetto che ci permette di andare ad esempio da costa fino a punti dove magari a piedi sarebbe impossibile andare una delle tecniche penso una delle più facili tecniche da fare una solitamente tra le tecniche solo fatte per il belly boat è assolutamente lo spinning però pensate che bello invece che dover saltellare da uno scoglio all'altro e arrivare poi a una barriera architettonica che può essere una scogliera picco che può essere qualsiasi con il nostro belly boat con le nostre pinne riusciamo a spostarci mi raccomando belly boat ce ne sono di tanti tipi importante se compriamo tutto ciò che compriamo di gonfiabile come un belly boat come un tender dobbiamo essere sicuri che abbia più più camere d'aria non una sola perché qualora si dovesse bucare una camera d'aria ne abbiamo un'altra o altre due o altre tre o altre cinque o sei come succede nei gommoni ecco perché sono sicuri e perché comunque dobbiamo fare attenzione sempre e comunque alla praticità di quando arriviamo per gonfiare questa cosa dobbiamo avere tutto organizzato per arrivare lì e gonfiare cosa che col kayak non bisogna assolutamente fare quindi anche lì il belly boat lo vedo molto comodo per tutte quelle pesche assolutamente sotto costa in poca acqua a spinning però dove possiamo giocarcela possiamo arrivare là dove da terra non arriviamo e scoprire anche posti nuovi spot magari addirittura vergini perché soltanto chi ha un'attrezzatura del genere può raggiungere determinati posti comunque il succo di questo partiamo da zero per pescando dal kayak o simili era proprio questo cercare di farvi capire che volendo provare si può far tutto basta farlo in sicurezza ci passiamo delle giornate meravigliose nel momento che qualcuno si fa male o che succede qualcosa non è più un divertimento e quindi mi sento di darvi queste informazioni noi viviamo molto il mare nella mia piccola breve esperienza di tre anni col kayak mi sono reso conto che le limitazioni ci sono non sono poche rispetto a una barca però i costi sono molto inferiori la praticità di poterlo portare ovunque è una cosa meravigliosa quindi è free liberi assolutamente di andare ovunque vogliamo perché con la macchina ci possiamo spostare poi decidere di calare il nostro kayak diciamo da qualsiasi spiaggia non servono gli scivoli come ad esempio servono quando uno è una barca carellabile e che la carrella se la porta dietro e quindi niente sono delle belle cose ma mi sono reso conto che le limitazioni non sono poche ma è una cosa che consiglierei a chiunque perché ti fa veramente apprezzare vivere il mare forse ancora più di una barca ti fa proprio essere sul livello dell'acqua diventi una cosa unica sia in acqua dolce che in mare molto bello e poi non ci dimentichiamo che le catture fatte da un kayak da un tenderino piccolo o dal belly boat sono belle perché un pesce anche se non enorme ci porta un po spasso e la cosa effettivamente ci fa ci rallegra la giornata quindi ragazzi questo breve non proprio ma comunque upgrade al video che abbiamo fatto aspettatevelo anche poi per quanto riguarda la pesca dal moor la pesca dalla scogliera la pesca dalla spiaggia dove ce ne sarebbero anche più di uno da fare gli upgrade spero che questo video possa essere stato per voi interessante vi do appuntamento chiaramente al prossimo continuate a seguirci sui nostri social continuate a seguire le nostre pagine iscrivetevi al canale attivate le notifiche e a questo punto io dico quello che dico sempre che la pesca sia con voi ragazzi sempre col kayak con la barca da terra come volete voi basta che si vada a pescare siamo tutti a posto ciao ragazzi ciao